Allah, 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 di noi, torniamo a 2, non abbiamo un'impunta, non abbiamo un'impinto, tutti sono creatori, signori vai, vai, con un 2, lascia noi facciamo quello che vogliamo, perché siamo intorno, ci diamo la morte, non hai confinato qui, magari me, subhanallah, affatto la morte, la morte a tutti di niente.